Prima di tutto noi abbiamo i Sound Lovers, dove sono i Sound Lovers? I Sound Lovers sul palco, eccoli qua, puoi mandare anche il loro cd, eccolo qua, a schermo gigante il cd dei Sound Lovers. La caratteristica di questi gruppi è che li si sente tantissimo per radio, li si vede poco per televisione, perché? Perché la musica dance magari non va tanto in tv, come nelle discoteche. Tu di dove sei? Argentina. Argentina, e tu? Olandese. E dove vi siete incontrati? Where did you meet? A Milano comunque. A Milano? Ma siete una produzione italiana? Certo. Che va nel mondo? Tutta Europa. Tutta Europa? Sì. Comunque, anche fuori dall'Europa, chiaramente. Qual è il disco vostro che ha più fortuna in questo momento? In questo momento si chiama Surrender. Allora, Sound Lovers, Surrender, qui all'Arena Team! I used to be surrendered, I used to be a lonely soul, I used to walk, I used to walk, I used to walk. I used to sender, I used to sender, I asked me if my love has come. Every day, the wiser, afraid to tell me what to do. So in love, I said what, it's really not my point of view. I used to get it off and now we're gone. I used to get it on. I used to get it on. And now we go on Used to get it on And now we go on Used to be surrendered I used to be a lonely soul Used to ascended And I was still with my love It's come, baby day, the wiser Afraid to tell me what to do It's only love I said, what? It's really not my point of view Used to get it done And now we go on Used to get it done And now we go on Used to get it done And now we go on Used to get it done And now we go on Ararararara Arararara Grazie! Grazie! Grazie, grazie! 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 Grazie a tutti.